Niente raga, a me mi hanno fermato, mi hanno fermato, niente mi hanno fermato, mi hanno fermato, continuate voi venite, mi hanno fermato, cazzarola, vabbè pazienza, Antonio Mazza, nuovo abbonato, grazie mille, King, Yt, grazie ancora bro, ho vende per tutti, eh io Eh, non troppi, e poi ero riuscito pure a recuperare, arrivano da voi verso sinistra ragazzi, eh, da qua arrivano, pompa, pompa, vieni, ecco, mi li hai chiesti di non andare via, eh, pensavo che era, per me li potete anche attaccare ragazzi, eh, andiamo, sì, andiamo, eh sì, vedete la giamberina, gli sparano pure da la destra, cioè abbiamo più questi qua davanti, dai, no, 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 ma che cos'è, dai, 76, blu, sopra, sotto, Yt, sopra, sopra, sto salendo, Yt, Checco pure tu che te curi così? Eh, lo so, ma che cazzo sai, se non te curavi così, no? Eh, c'è ragione, scappa tu, se non scappa, eh, peccato cazzo, questi dovevano rompe solo il cazzo dovevano rompe dalla tempesta. Checco, ma quale ccci che tu te stavi a curare mentre... Eh, lo sbagliato, lo so. Eh, te stavi a curare mentre il team stava in fight e te sei curato guardando il nemico? Eh, lo so, ma come devo fare? Stavo colpito di vita. Io credo, ma non lo fare, non ti curare guardando il nemico, o scappi come faccio io, o pusci, o lo fai per bene, devi fare le cose per bene, non le cose a metà, perché non ti puoi curare guardando il nemico? E te curavi e guardavi il nemico? Il nemico ha detto, ma guarda sto cretino. Eh? Lo sai, vaffanculo che t'avevo mandato io? Poi non mi dite che do sempre la colpa a Checco. Guarda caso, su tre persone il gioco mi punta Checco, non volendo, e becco Checco che guarda Sol e Yure che combattono, in più c'era un nemico che guardava Checco e Checco con le bende. Cioè, ma... Boh, regà, io... Sì, comunque andiamo al lago. Ok. Poi mi dite, eh, ma non di sempre a Checco. Ho capito. Salvatore un euro. No, no, ma non è... Non sto insistendo con te, sto dicendo alla chat che poi sembra veramente che guardo sempre solo te. Ma non è così. Ah. È che sta cazzo del gioco mi ha puntato su DeDe e ho visto una cosa imbarazzante e t'ho tutati per forza, perché non c'ava senso. Poi vabbè Yure che si è tuffato alla grande, senza senso, ma ci sta. Devevo costruirmi, mi stavano attaccando. No, no, ho visto. Il problema è che ti sei tuffato. In quei casi non devi fare i muri, devi fare le scale, perché... Eh, a quanto pare non ha appiccicato. Oh, io restavo... Checco stava là che si guardava il nemico. Eeeh... Niente. Eeeh... Có... Fiume! 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 Kom experiencesamente!